Dal 9 all'11 ottobre prossimi la Regione Abruzzo in collaborazione con la Camera di Commercio di Chieti Pescara e la Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia parteciperà alla 61esima edizione del TTG Travel Experience di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo su scala mondiale. Si tratta di un vero e proprio laboratorio di idee per gli operatori del settore, fonte di informazione in cui si possono intercettare le nuove tendenze 2025 e le innovazioni più importanti in ambito turistico. Nel corso delle tre giornate a Rimini i maggiori operatori internazionali e nazionali che rappresentano il comparto turistico avranno l'opportunità di fare affari nelle aree espositive dedicate a destinazioni internazionali e focus di prodotto. La nostra Regione, in collaborazione come detto con le Camere di Commercio di Chieti Pescara e del Gran Sasso, parteciperà all'edizione 2024 con uno stand di 200 metri quadrati nel quale esporrà la propria offerta turistica e garantirà la massima visibilità della sua destinazione e del suo territorio con 30 operatori. L'assessore regionale al turismo Daniele Damario. Soprattutto gli operatori avranno la possibilità di intercettare tour operator mondiali per promuovere ancora di più la nostra Regione. Cosa va per la maggiore adesso in Abruzzo? Noi a fine ottobre tireremo fuori i dati, vedo che ci sono un sacco di chiacchiere in giro, dati sparati un po' a casaccio e non da un punto di vista scientifico. No, devo dire che noi puntiamo a consolidare l'ottimo risultato avuto l'anno scorso con un più 9,3%, con un altro segno più davanti. Ovviamente non si può aumentare ogni anno del 9%, però insomma in barba delle tante chiacchiere che leggo, a cui non ho mai risposto fino adesso, diciamo che il tendenziale a fine ottobre dell'aumento delle presenze turistiche è un più 3%, che sicuramente non era un dato affatto scontato. Una vetrina di rilievo, quella di Rimini, per far conoscere l'Abruzzo in tutte le sue sfaccettature, il presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara, Gennaro Strever. All'interno di tutto ciò che sono le attività turistiche ci guadagna l'inocastronomia, ci guadagna l'agricoltura, ci guadagna le industrie di conservazione, perché qualunque turista che arriva nella nostra Regione, nel nostro territorio, porta a casa sicuramente non solo il ricordo dell'Abruzzo, ma anche qualche bottiglia d'olio, qualche bottiglia di vino, che noi ne produciamo in quantità oggi rilevante. La presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso, Antonella Ballone, sottolinea una particolare iniziativa. Come Camera di Commercio del Gran Sasso abbiamo voluto fare anche un bando specifico per captare i flussi turistici. Diamo contributi fino a 7.500 euro per gruppi di minimo 25 persone e minimo due notti. Questo servirà per captare i flussi turistici e diamo una dota in più ai nostri operatori quando vendono il nostro Abruzzo. Grazie. 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 Grazie.